Pace e bene. Oggi vorrei raccontarti una storia raccontata da Papa Francesco. C'era una famiglia, un papà, una mamma e tanti bambini, e c'era anche un nonno che viveva con loro. Ma era invecchiato e a tavola quando mangiava, ad esempio la zuppa, si sporcava tutto, la bocca, il tovagliolo, e non faceva una bella figura. Un giorno il papà ha detto che, visto ciò che capitava al nonno, dal giorno successivo lo avrebbe fatto mangiare da solo. Comprò un tavolino e lo mise in cucina. Così il nonno mangiava da solo in cucina e la famiglia nella sala da pranzo. Dopo alcuni giorni, il papà torna a casa e trova uno dei suoi figli che gioca col legno. E gli chiese, che cosa fai? Sto giocando a fare il falegname, rispose il bambino. E cosa costruisci? Un tavolino. Ah, e che ne fai? Mi serve per te, papà, per quando diventi vecchio come il nonno. Questa storia, diceva il papa, mi ha fatto tanto bene per tutta la vita. I nonni sono un tesoro. Sono quelli che ci portano la storia, la dottrina, la fede, e ce la lasciano in eredità. È vero, a volte la vecchiaia è un po' brutta per le malattie che comporta, ma la sapienza che hanno i nostri nonni è l'eredità che noi dobbiamo ricevere. Un popolo che non custodisce i nonni, che non rispetta gli anziani, non ha futuro, perché ha perso la memoria. Preghiamo dunque per gli anziani, i nostri nonni e le nostre nonne, e diamoci da fare per amarli. Che il buon Dio ti benedica.